ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì e quindi come ogni martedì esce un video delle makeups angels vi chiediamo scusa se in questo periodo non abbiamo fatto video perché abbiamo iniziato diciamo non bene quest'anno perché sono successe varie cose poco tempo fa sapete tutti che non è stato bene mio padre quindi mi sono presa un periodo di pausa io e adesso purtroppo è successo alla mamma di betty quindi betty si è presa un piccolo periodo di pausa ma adesso la mamma di betty sta bene quindi le mandiamo un grosso bacio forse perché siamo delle donne le donne sono belle toste e quindi adesso si è ripresa e quindi sta bene infatti vorrei che tutto il nostro affetto andasse tutto il nostro affetto andasse alla mamma di betty augurandogli ovviamente tanta tanta salute incrociamo le dita che non succeda niente perché così possiamo continuare il nostro appuntamento di ogni martedì quindi ricordatevi sempre ogni martedì uscirà un nuovo video delle makeups angels quindi io saluto sia betty che fabiana fabiana lizzi chi non la conosce e per ricominciare tra virgolette a fare di nuovo video abbiamo deciso di cioè io gli ho fatto una proposta di fare un tag sapete tutti che i tag sono molto più frivoli non c'è qualcosa complicata nel fare il makeup o fare altre cose e visto che betty è tornata da poco non mi sembrava giusto fare delle cose molto più particolari invece così è un purpalè quindi ci divertiamo un po allora io gli ho proposto di fare un video tag sempre per quanto riguarda giulia cova perché io l'ho visto sul suo canale e il tag si chiama esse andiamo alla prima domanda perché ce ne sono dieci quindi andiamo che tardi prima domanda e se dovessi pensare ai creator che segui instagram e youtube qual è stato l'ultimo prodotto acquistato per colpa loro e per colpa di chi allora l'ultimo prodotto fatemi vedere l'ultimo prodotto acquistato proprio di recente l'ho acquistati proprio al col per colpa di lei direttamente quindi di giulia cova ho preso questo set di mercy andy non so se già il video è uscito sinceramente ma poco importa dove abbiamo questi tre prodotti sono mi sbaglio una è una maschera gel uno è un cleanser e poi c'è questo aggeggino che di norma si utilizza quando si mette la maschera per massaggiare la parte devo dire che è bello fresco lo terrei volentieri in questa posizione perché è bello bello fresco e sì questo l'ho acquistato proprio perché l'ha nominato giulia cova quindi è stata proprio lei a farmi fare questo tipo di acquisto ovviamente vi metto questo proprio per essere diciamo una chicca dell'ultimo momento per quanto riguarda gli acquisti che mi fa fare lei perché io vi faccio vedere questo set come diciamo principe di tutti gli altri perché tutti i set li scova tutti lei quindi io vado subito a raccimolare poi l'altra youtuber l'altra l'altra youtuber che seguo tantissimo è clio e clio ha parlato di questo pennello io la prima che proprio ho sentito parlare di questo pennello è stata lei poi tutti gli altri si sono guru hanno espresso la loro opinione ma io la prima che ho sentito parlare è stata lei ed è il pennello da correttore della zoeva questo è il 146 allora è un ottimo pennello lo vedete è sporco perché l'ho utilizzato non su questo makeup ma su un altro e sinceramente mi piace infatti mi piace talmente tanto che ne voglio prendere un altro alla forma giusta non so se si vede scusate ma c'è il mio naso davanti alla forma giusta per stendere il correttore e mi piace tantissimo perché lo riesce a stendere proprio bene tramite questa forma concava che ha è proprio il fatto anche di essere tagliato proprio per la posizione del scusate per la posizione del correttore e mi piace mi piace veramente tanto infatti come vi ho detto poco fa mi piace così tanto da comprare un altro gemello poi seconda domanda e se dovessi scegliere tra tutti i prodotti tra tutti i tuoi prodotti quali sono i tre luxury che valgono davvero il loro prezzo allora in primis vi voglio parlare di Anastasia Beverly Hills le palettine allora ho questa perché l'altro giorno ho fatto un makeup quindi ce l'ho qui a portata di mano vi prendo questa qui per Jackie Aina ma io parlo in generale delle palettine di Anastasia allora mi piacciono tantissimo anche se il prezzo spesso è alto mi piacciono proprio queste palettine primo i colori il range di colori bellissimi molto molto pigmentati scusate un po di prurito molto molto pigmentati anche se c'è un po di fallout nelle cialdine non mi interessa perché io di solito faccio prima gli occhi poi la base quindi non mi interessa questa cosa mi piace il range di colore mi piace la sfumabilità che hanno mi piace la pigmentazione che hanno appoggi il pennello e già hai tutto l'occhio con l'ombretto mi piace veramente mi piace mi piace tantissimo e credo che sia la mia preferita proprio in quanto riguarda per quanto riguarda le palettine poi un altro prodotto di luxury che si è costato ma non direi proprio così tanto è questa palettina di smashbox per quanto riguarda il contouring ed è una palettina viso e devo dire che un'ottima palettina viso ha delle polveri pazzesche infatti voglio prendere anche quella più chiara non mi ricordo come che si chiama l'ho vista sul sito e quindi la voglio prendere ha le polveri sottilissime veramente impalpabili le colorazioni sono ottime e li potete sfumare benissimo ve lo dico io che non so fare il contouring cioè perlomeno sto imparando a fare il contouring quindi non sono proprio brava brava e devo dire che la pigmentazione di queste polveri è pazzesca per quanto riguarda il prezzo devo dire che per 6 polveri il prezzo direi che ne vale la pena sinceramente perché veramente sono degli ottimi prodotti e io sono molto contenta di averla presa infatti voglio prendere anche la sorellina più giovane diciamo più chiara e mi piace mi piace veramente tanto l'illuminante cioè è pazzesca ed è un'ottima palettina è piccola e la potete portare in giro dove vi pare quindi questo è il secondo prodotto il terzo prodotto anche se l'ho provato ma il colore è leggermente scuro il Dior Backstage allora io ho preso la colorazione 1N è sinceramente scura per me si vede un pochettino è scura per me però è un ottimo ottimo fondotinta io come vi ho detto negli altri video non ho bisogno di tanta coprenza infatti io preferisco una bassa coprenza perché non ho molte imperfezioni sul viso e automaticamente non mi serve proprio un mascherone da coprirmi proprio di da fare tipo il cerone sul viso e quindi questo è un fondotinta leggero ed è a base di acqua e la cosa che mi piace è che assomiglia al Face & Body della MAC infatti si chiama anche questo Face & Body anche questo si chiama Face & Body mi dispiace soltanto di aver sbagliato la colorazione ma la stesura sul viso è molto molto buona quindi mi piace infatti vi farò poi vedere il video quando lo utilizzo ovviamente il colore è diverso però devo dire che è ottimo quindi prenderò un altro colore per matchare questa colorazione e fare diciamo il fondo ideale per me poi andiamo avanti terza domanda e se potessi tenere solo 5 pennelli di makeup tra tutti quelli che possiedi quali sarebbero? allora e io ho preso proprio i miei 5 pennelli e sono questi qua allora iniziamo per quello che vi ho fatto vedere poco fa scusate ma ho frurito vedo peli dappertutto il primo pennello che vi faccio vedere è di nuovo questo ed è per il correttore per me è ottimo come vi ho detto poco fa per l'applicazione del correttore sfuma benissimo, l'applicazione viene molto molto bene perché ha questa forma concava che aiuta tantissimo la stesura ed è ottimo poi il secondo pennello è questo ed è quello di Nabla ed è un pennello sporco ed è un pennello che mi piace tantissimo perché è cicciottello non è proprio sottile sottile e lo potete utilizzare sia per quanto riguarda l'applicazione dell'ombretto sia per sfumarlo nella piega perché è abbastanza cicciotto da aiutarvi a sfumare poi meglio piccolo perché vi aiuta la stesura sia delle parti più piccoline che delle parti più grandi e vi aiuta veramente tanto 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 l'altro pennello è un due in uno della essence dove abbiamo la parte per applicare diciamo l'ombretto nella parte piccolina quindi la... come si chiama? da sfumatura, pennello a penna pennello a penna piccolino da sfumatura e poi la parte più grande allora, cosa succede? la parte piccolina potete applicare l'ombretto per dare la sfumatura la parte grande sfumate direttamente l'ombretto la parte piccola si utilizza per mettere il colore nella rima inferiore dell'occhio la parte grande vi aiuta a sfumare la parte inferiore dell'occhio andiamo agli ultimi due pennelli che sono questi qua della Real Techniques allora, questi hanno tre possibilità di questo pennello abbiamo tre possibilità una parte piccola, media e grande quindi per quella piccola possiamo applicare la cipria sotto l'occhio fare il contouring nella parte media possiamo, non lo so, applicare la cipria no, forse no, la cipria no nella seconda parte possiamo applicare l'illuminante e nella parte iniziale possiamo applicare il blush che sapete tutti che questo è il mio pennello preferito io di norma ho il fratellino originale che mi piace tantissimo per il blush la stessa identica cosa e poi lo richiudiamo perché così non si sporca questi da viaggio sono ottime e il fratellino è questo potete applicare il correttore se vi serve o fare il contouring proprio più segnato applicare il fondotinta in modo preciso per avere una stesura più coprente oppure applicare il fondotinta molto molto leggero su tutto il viso devo dire che sono ottimi come pennelli e con 5 vi ho fatto la stesura di tutto il makeup poi cinque pennelli abbiamo fatto quarta domanda e se dovessi ripensare all'ultimo mese quali sono gli ultimi tre prodotti che hai acquistato ce li mostri? allora, sì ve li mostro anche se poi ci saranno i video che andrete a vedere vero che andrete a vedere i video? vero? siamo sicuri? allora, quali sono gli ultimi tre prodotti? gli ultimi tre prodotti che ho acquistato sono allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo che è un siero ed è un siero di Revolution ve ne faccio vedere uno ma ne ho presi quattro li ho presi da Pink Panda se non mi sbaglio sono ottimi veramente ho visto tantissime recensioni per quanto riguarda questi prodotti e ne ho voluti prendere quattro nello specifico sono uno diverso dall'altro proprio per provarli e vedere se mi ci trovo bene perché se non mi sbaglio alcuni dicono che si possono sostituire ai farsali e il prezzo ovviamente è minore a confronto del farsali ovvio l'altro che vi faccio vedere è l'illuminante di Ofra bellissimo ve ne faccio vedere uno come diciamo principe di tutti gli illuminanti che ho preso da Beauty Bay quindi vi spoilerò un po' di video che vedrete nei prossimi giorni e questo è highlighter Beverly Hills ed è di Ofra questo è il packaging di Ofra bianco e questo è l'highlighter rifato gli occhi già parla da solo uno stupendo colore lo potete mixare per avere un colore tutto unico oppure prendere questi spicchi e utilizzarli sono fantastici e questo è uno di tanti che ne ho preso vi spoilerò con questa l'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda i tre acquisti sono questi questi forse già li avete visti sono i pennelli di Jackie Neal per quanto riguarda sono questi qua bianchi aspettate ve li faccio vedere da dietro sono i pennelli di Jackie Neal per Morphe ho preso tutto il set perché c'era lo sconto e quindi l'ho preso a metà prezzo c'era lo sconto del 50% su tutti e due i set perché sono due set uno viso e uno occhi sono ottimi io già l'ho provato sono già lavati asciugati e utilizzati quindi ottimo quindi l'ultimo diciamo acquisto che è stato fatto nell'ultimo periodo è questo non vi spoilerò le altre cose perché li devo ancora registrare e quindi non vi posso spoilerare le altre cose poi quinta domanda e se dovessi dirci un brand make up impertibile ma di cui in Italia nessuno ne parla allora non vi nomino brand che non conosco sinceramente perché non mi piace e soprattutto perché non provando i prodotti sinceramente non ne vale la pena però un brand che molto tempo fa era nominatissimo per quanto riguarda youtube ma adesso proprio è nominato da qualcuno proprio leggero leggero la MAC per quanto riguarda chi vuole fare di mestiere il truccatore il mega artist come lo volete chiamare la MAC è il brand più diciamo completo per quanto riguarda questa tipologia a me piace tantissimo il fatto anche che ha molti edizioni limitate dei packaging particolari che loro fanno però come prodotto in sé rossetto matita ombretti devo dire che mi piacciono tantissimo specialmente il fondotinta il face and body per me è il preferito assieme ad altri tipi di fondotinta veramente la curiosità ce l'ho anche nei pennelli chissà un giorno prenderò anche i pennelli chi lo sa quindi per me è la MAC sesta domanda e se dovessi ripensare ai tuoi acquisti recenti quale grossa fregatura hai preso e raccontaci allora sinceramente non ho preso una grossa fregatura proprio devo essere sincera non ho acquistato cose che ho sbagliato colore e tutto il fondotinta questo ho sbagliato ma perché non riesco ancora a trovare il colore giusto per la mia pelle per la mia tipologia di pelle ma sbaglio anche quando vado allo store di Sephora quindi non è che dice mi cambia qualcosa questo un po' mi dà fastidio quindi diciamo l'unica cosa è questo il fatto di non riuscire ancora oggi a capire il fondotinta di da comprare online quella ancora mi dà leggermente fastidio quindi questa è la cosa che mi dà fastidio poi io non ho avuto nessuna fregatura mi piace così com'è cioè ho acquistato i prodotti giusti l'ultima diciamo cosa particolare che mi è successa è quando ci sono stati degli sconti del 50 del 70% su beauty bay io avevo messo super giù 40 prodotti che io ne metto un tot e poi scelgo all'ultimo infatti volevo prendere le palettine quelle piccoline di Ofra per quanto riguarda l'illuminante perché questa è quella grande poi ci sono quelle più piccoline e avevo messo super giù 40 prodotti di Ofra e altri altri brand nemmeno 10 minuti cioè nemmeno 10 minuti siamo arrivati a 12 o 13 prodotti cioè una cosa incredibile perché questi illuminanti proprio andavano a ruba e proprio sono riuscita a prendere proprio quei 4 che sono riuscita sinceramente non lo so perché sono andati subito a ruba e quindi ho preso questo grande e poi gli altri sono piccolini ma poi li vedrete nel video quindi non vi spoilerò niente settima domanda e se dovessi consigliarci un prodotto low cost da correre e comprare di corsa allora un prodotto low cost da comprare di corsa è il correttore dell'astra io con il correttore dell'astra mi trovo benissimo ma bene 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 mi piace mi piace come prodotto mi piace come mi nasconde l'occhiaia io ho sia questo prodotto che adoro che questo sono i due prodotti in combo che io utilizzo questo è il primer tra virgolette il primer per occhi della becca per quanto riguarda il contorno occhi stiamo parlando quindi questo lo utilizzo con il pennello oppure con le dita si può utilizzare metto questo e già un pochettino mi illumina la parte e devo dire che come si dice mi fa diventare la parte leggermente più liscia visto che anche ho delle rughette sotto gli occhi mi fa diventare la parte liscia così posso applicarci al di sopra il correttore e il correttore il correttore rimane lì proprio per tutta la giornata questa è una combo che io adoro in assoluto e poi di norma metto anche il correttore illuminante di Essence però la maggior parte delle volte questa è la mia combo ma questo è spettacolare infatti appena finisco questo vado subito a comprare la full size perché veramente mi ci trovo benissimo poi ottava domanda e se dovessi condividere con noi la lista dei prodotti che più desideri quello è l'ultimo prodotto che ho inserito allora l'ultimo prodotto che ho inserito è il pennello di Zoeva nel carrello di Sephora poi ho segnato due rossetti per quanto riguarda MAC e aspettate che vado a vedere sì MAC due rossetti e poi ho fatto la lista del come si chiama del fondotinta della Benefit il numero uno che avete visto già la recensione e un altro che non vi posso spoilerare perché poi ci sarà il video quindi è un altro fondotinta non ha domanda e se dovessi mostrarci un prodotto da contouring in crema e uno in polvere che davvero sono imperdibili quali sarebbero? per quanto riguarda in crema io scelgo questo qui di Fenty io ce l'ho nella colorazione Amber che adatta al mio colorito allora dovete applicare il prodotto non avanzate dovete applicarlo fino a questa posizione proprio vicino all'inizio dell'occhio proprio all'inizio dell'occhio lo applicate e poi lo sfumate di solito io lo sfumo quando l'ho utilizzato lo sfumo con il pennello di Huda Beauty lo sfumo leggermente e poi se mi piace applico la parte di sopra in polvere ma di solito lo lascio così perché mi piace tantissimo la stesura uno è questo e l'altro imperdibile è aspettate che lo prendo l'altro imperdibile è quello di Too Faced sapete tutti che è il mio preferito ed è questo questo è nella colorazione Chocolate Soleil ed è questa ed è la colorazione ideale per quanto mi riguarda allora sinceramente io di più ho utilizzato questo qui della Too Faced perché mi ci trovo benissimo in polvere e mi viene bene adesso che siamo in estate mi sa che utilizzerò di più questo proprio per fare una base leggera senza cipra e senza niente voglio vedere come si utilizza però questo è fantastico cioè ve lo consiglio questo la bomba una bomba poi decima domanda e se dovessi ripensare all'ultima settimana quali sono gli ultimi tre prodotti labbra che hai indossato ce li mostri aspettate e se dovessi ripensare all'ultima settimana quali sono gli ultimi tre prodotti labbra che hai indossato ce li mostri ovvio che si ovvio allora questo me lo mostro per ultimo allora per ultimo vi faccio vedere quello che ho utilizzato di più di più di più di più di più allora il primo che vi faccio vedere è questo di Uda Beauty sapete tutti che io adoro questi rossetti mi piacciono tantissimo e quindi dipende che makeup faccio utilizzo questo l'ultimo che sto mettendo perché devo capire se mi sta bene sul mio viso oppure no è il Winding Day ed è questo colorino qua questo che non è quello che indosso perché è leggermente più rosato questo e mi piace a me piace poi non lo so se in caso poi vi metterò una foto su Instagram e vediamo se mi dovete dire se piace o non piace a me piace tantissimo infatti già si sta consumando niente questo è quello che ho utilizzato due o tre giorni fa poi ho utilizzato questo di Uda Beauty perché ho fatto un make up particolare che poi vedrete ed è il Lip Strobe che ho utilizzato se mi sbaglio è lui sì Ritz è il Lip Strobe che ho utilizzato su tutte le labbra perché siccome ho fatto un make up abbastanza particolare non volevo diciamo distogliere lo sguardo sulle labbra e quindi ho valorizzato di più gli occhi non facendo notare le labbra ma devo dire che le labbra si notavano lo stesso perché dava una luce pazzesca veramente pazzesca agli occhi quindi ottimo l'ultimo prodotto che ho utilizzato tutti i giorni tutti i momenti in tutte le ore eccetera eccetera per quanto riguarda ultimi prodotti utilizzati durante tutta la settimana sono questi sono i bassami labbra io li utilizzo sempre esclusivamente qui nella postazione ho questo di Essence che è bellissimo non tinge non fa glitter non fa niente è soltanto diciamo di bellezza e poi questo che non è il labello ma è maronna mi è il balsamo labbra che ho fatto io tramite diciamo le parti finali di tanti balsami labbra ne ho fatto uno in particolare e lo sto utilizzando quindi ho messo qui nella postazione questi sono i prodotti che io sto utilizzando di più in assoluto proprio più di questi non riesco ad utilizzare perché essendo che non sto uscendo quindi automaticamente non mi trucco automaticamente non metto nessun rossetto quindi questi sono gli ultimi prodotti che diciamo mi avete visto allora per quanto riguarda questo video è tutto io ringrazio tantissimo Giulia Cova per aver fatto diciamo questo tag non so se l'ha fatto lei o qualcun altro se l'ha fatto qualcun altro vi scriverò anche il nome di questa persona che dirvi io saluto le mie make up angels quindi siamo tornate incrociate le dita che abbiamo diciamo un ritorno con i fiocchi nel senso che andiamo lisce come l'olio e niente che dirvi se volete replicare questo video fare questo tag mi farebbe tanto tanto piacere e niente io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao